Sì, ma volendo il lagecchio là sopra, aspetta ferma, ora aspetta perché ci ho lasciato, ma c'è le cittadine? Sì, guarda il fatto, no ma c'è la stia in cima, c'è gli scalini, c'è gli scalini, c'è gli scalini, allora che si fa? Che ti tieni Lucio? Dammi, vengo, ti tirano? Te lo voglio far vedere? Sì, andiamo con loro mamma.